Danesi, c'è il pollice verde Oh no, la mia Dobbiamo ridere Abbiamo fatto una battuta C'è il pollice verde, una fiole piante Oh no, la mia Brividi Ma non sono simpatica, eh Per fare il tele Per la mia comicità Eccoci, ciao ragazze Ciao ragazzi, non l'hai detto? Ciao ragazzi Stai confusa, vabbè Giornata, altra giornata di shopping Per la casa nuova Aiuto Altro vlog Ui, ma mi fai cadere pure Mi fai cadere il calcio mentre cammino Già è difficile Comunque perché Dato che l'altro video mi è piaciuto tanto Abbiamo deciso di farne un altro Che praticamente adesso siamo Sempre al centro commerciale campane Non so perché andiamo a finire sempre qua Eh beh, perché qua c'è tutto Allora, qua c'è anche My sound demand Ta 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 Che io amo tantissimo E c'è anche la mia mamma Che si vuole nascondere Belle e bellissime Dobbiamo cambiare l'ennesima cosa Sì, oggi siamo tutte donne Da Maison du Monde Poi andiamo dentro Andremo da Tiger Da Coinport Dove andiamo più? Comunque vabbè È più casa, è più shopping No, vi facciamo vedere Ci divertiamo oggi Yeah Appa, ciao Ciao Le rinne bianche È Natale Questa stanza qua è Shabby Shippe Guarda Shabby Shippe E sono carini No ma io adoro questa coperta No ma io adoro questa coperta Veramente ogni volta che vendo qua Me la vorrei comprare Però comunque è carissimo Considerare che Ma è son du Monde Io l'aduro Però è caro proprio Infatti ragazze Non vi dico Questa coperta Tipo quanto costa? Eh, 140 euro No Non c'è scritto Non l'hanno scritto perché Un cuscino 239 euro costa Ah no, Pariur Da letto Bianchellino 239 Eh ma la coperta La Pariur Non la coperta Ecco qua La coperta costa 130 euro Qua quasi 140 per scherzo Pure questa sede è bella È troppo bella Sta 189 Comunque sono prezzi cari Però è tutto bello Se qualcuno mi sta guardando Zie Zii e zii e zii Mi volete fare un regalo Venite da Vincent du Monde Mi sono innamorata Di questa credenza È troppo bella Ma forse ne sono un E ne è uno Ma c'è Ma guardate quanto costa 1900 euro 1900 euro Giuro Forse uno solo Ma c'è Ma è sa zero Ma tu Che mi comporta la casa Ma tu Non è troppo bella Veramente È sabbiscic Sabbiscic Sì ma Mamma è bellissima Se n'è fuggita mia mamma Non te la regalo Non te la regalo Ma bu Ma però ti lo dirà È troppo esagerato Non è come regalo Mamma Anche se me la vuoi regalare Non fa niente Guarda Perché veramente Costa troppo Lascia perdere mamma Non insistere mamma Non si sa proprio Andate di bruciare proprio Vabbè Proseguiamo il nostro giretto Queste sono le tazze bellissime A cake Yeah Non lo so Cosa si vede qua Devo Pasticcini A me servirebbero Pure del baratto Di metterci lo zucchero Sale e caffè E per organizzare Per vedere la cucina Per organizzare tutte queste cose Devi tenere la cucina sotto occhio Non puoi comprare le cose a cucina Stavi parlando bene Tanto perro Tanto perro Vabbè Sono belle Sono belle legate Sono troppo belli questi qua Costano 32 euro e 99 Non è proprio poco Però Sono belle Tutto mi scaldano Dai Quando tu questi metti in camera da letto Poi vi faccio vedere Voi mettete un bel pollice in su Se volete vedere la mia casa Il mio home tour E tutte le cose che compriamo oggi anche Vi passiamo il video Vi passiamo a vedere tutto Eccoci qua Siamo usciti Abbiamo comprato tante tante cosine Ovviamente Vi faremo il video E che vi faremo vedere tutto Quello che abbiamo comprato Quindi se volete questo video Ditecelo nei commenti E metteteci un bel pollice in su A questo video Che bel sole ragazzi Che bel sole Sta troppo bene oggi Fantastico Guarda che capelli lucidi Brava La mia sorellina Usate il mio shampoo Certo Brava Comunque adesso non vi lasciamo Adesso continua il nostro giretto Quindi andiamo nel centro Proprio entriamo Sì Vediamo tutti i negozi Da tutti i negozi Pagher Tutte cose isfiziosi E poi cose per casalinghe Tutta cosa per la casa Siamo diventate due casalinghe disperate Adesso vi facciamo vedere tutto Così poi dateci tanti commenti Tanti suggerimenti nei commenti Sì consigliateci Ecco qua il tuo vestito di Capodanno Carlita Ma che dici? Guarda come stai carina Mi piace? Com'è ci piace questa cosa blu Mi piace Renzi non c'è niente vestiti eh No no Basta non fare scherzi Niente Uffa Ma che dici ce lo prendiamo? Sì sì Crema cioccolato Bag Senza l'utine Se ne andiamo E senza un GM Proviamo Renzi Sì sì Guarda subito Sì sì Mettiamo Sì sì Un cappuccino Vabbè la cioccolata vegan Assaggia vedi com'è Ma mangiamo tutta la cioccolata Dopo che ha mangiato questa Ve le sta a fare nel bagno Com'è? Sì la marimobili Sono tutti i miei rovi A farsa non è delle migliori Aromatizzata Aromatizzata C'è qualche liquore dentro Ah bravo Ah Che dici bu? Però ce la mangia Però Maurizio E poi ci sta piacendo Guarda la faccia Ci sta piacendo Buona Ma assaggia com'è? Un cappuccino Un cappuccino Un buce russi Un buce russi Coccolato Buono Tutto leggero Nessi mangia pure tu Sì sì Bellassima Guarda Nessi C'è un pollice verde Madonna mia Dobbiamo ridere Questa è una battuta C'è un pollice verde Innaffio le piante Madonna mia Brividi Ma come sono simpatica Eh Per fare zelic La mia comicità Belli questi dolcini Ma sono tutti a base Di olio di palma Pure questi Solo olio di palma Olio vegetale Come sono? Allora Ho guardato tutto Ho fatto vedere Tutte le cose Tutto Le cose da mangiare Di Tiger Olio di palma Da per tutto Tutto il suo olio di palma Salamelle Tutto Oppure c'è scritto Olio vegetale Grasso vegetale Indovina l'unica cosa Che non ha olio di palma Le patatine Per la tua gioia Non ci credo C'è detto Olio di girasole Pagate Proprio a dire Compravi Proprio un'istigazione per me Dai Una cosa Ma guardate tutto Olio di palma L'unica cosa Che è patatine Wow Sono appena usciti Sono rossissime Abbiamo comprato tante cose È vero mamma È vero Renzi Siamo felicissime Tutte scemità E vedi a mamma dietro A tutte pance Vabbè Comunque vi faremo il video Con tutte le cose Che abbiamo Comprato Tutte cose interessanti Utili È vero mamma Vi vediamo tanti paci Mettete un bel pollice in su Mamma Fai così Un bel pollice in su Per la mia mamma Ciao Ciao Molli Mamma guarda che ho trovato Che ho trovato Grazie di Natalizia Troppo carini Fa vedere Per mettere sul trocchetto E vai Siamo pronti per girare sto video Dai Ciao Tutto pronto Organizzato Ci giriamo i video Per il nostro secondo canale Delle ricette Ragazzi Qua è tutto pronto Tutta la scenografia Manca solo Renzi Che sta parlando a telefono Col suo fidanzato Renzi È finito È finito Vieni Pronto Trottolino Mi manchi Trottolino Avoroso Da 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 Nenzi È tutto pronto Biscotti Eccola Eccola Ci siamo allora Pronte per girare Il video Delle nostre ricette Di Natale Guarda qua Allora Videocamera 1 Videocamera 2 Batteria 1 Batteria 3 C'ho solo 3.000 Batterie Videocamera Tutte scariche Tutte scariche Infatti adesso ho preso Quella di riserva Per registrare Perché quell'altra Mi aveva scritto Una ricetta Brava La nostra ricettina Adesso faremo Vari ricette Un tronchetto Dei biscotti Tante cose buone Buone Seguiteci anche Quindi sul nostro Secondo canale Guardi com'è bello Guardi 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 Oh No vabbè Quindi Ti mandiamo tanti baci Callita Nancy Cookie Che Sta là Molly Che Sta là Adesso registriamo i video Videocamera Videocamera Di ipfacto Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bel pollice in su Vi diamo L'appuntamento Il prossimo Blogmas Con Nancy Ancora La volete Nancy Sennò I sacci Vi committedo Eima Merry Christmas Muu sea Ciao Grazie a tutti.